giusto? se mi clociava un altro qua eh? B1 giusto? giusto? i Sì Aspettami Fa quasi freschino Sì 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 Fai Aaaa ho forse forato potrei aver forato per la stessa seconda ho sentito il shock ma no easy ottimo e 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